Quello che notiamo è che negli ultimi anni sicuramente c'è stata una crescita delle denunce, degli esposti su queste fattispecie delittuose, però questo significa anche che c'è una maggiore consapevolezza da parte delle vittime. Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne la Questura di Trieste ha reso noti i dati sulle varie fattispecie di reato, dallo stalking alle lesioni, non solo violenze fisiche ma anche psicologiche. Gli autori di violenza appartengono a tutte le fasce sociali, tra loro ci sono minorenni fino a ultra sessantenni, ma la fascia d'età maggiormente coinvolta è quella che va dai 25 ai 50 anni. In generale almeno nel 50% dei casi la violenza avviene davanti a minori. L'attività di contrasto passa attraverso la polizia, le forze dell'ordine e la polizia locale. La Questura di Trieste in questi giorni è impegnata in diverse iniziative mirate alla prevenzione attraverso la distribuzione di déplian nei supermercati, la presenza nelle piazze, del camper e della campagna, questo non è amore e la partecipazione ai 20 sul tema. Noi quest'anno abbiamo fatto 48 ammonimenti rispetto ai 28 dello scorso anno, quindi significa 20 ammonimenti in più, che sembra un dato relativo, però per noi è un dato importante, perché l'ammonimento, come sapete, è una misura di prevenzione che viene adottata dal questore, laddove la vittima ritiene di non fare una denuncia all'autorità giudiziaria e chieda una tutela anticipata all'autorità di pubblica sicurezza. Ammonimento che è uno strumento molto utile, perché poi se uno commette altri fatti poi si va a diritto all'autorità giudiziaria, ma soprattutto ci consente anche di affidare gli autori delle violenze, noi li invitiamo ad andare e la gran parte di loro alla fine ci va, a un'associazione con cui abbiamo un protocollo d'intesa da anni, che è l'associazione Interpares, che si occupa del recupero dei violenti.